Ciao viaggiatore, benvenuto in Divine Odyssey, oggi ti presento questo nuovo vlog all'interno del gioco e ci incontreremo in questi bellissimi video per avere qualche pillola sul funzionamento e sulle tematiche che chiaramente troviamo all'interno del gioco, naturalmente avremo ospiti come in questo caso molto interessanti e delle creature inquietanti che comunque ci accompagnano all'interno di questa nostra esperienza e niente io ti aspetto per cominciare insieme questo viaggio straordinario e a presto!